C'è sempre il bambino che magari un po' insicuro dice ma io non so disegnare ma per fare fumetti non è indispensabile saper disegnare bene, bisogna saper raccontare con quel linguaggio Il fumetto ha il grande vantaggio rispetto al racconto ad esempio di essere molto sintetico quindi devi, da punto di vista della lingua sempre, del testo quindi devi cogliere le cose giuste, le parole giuste, inserirle nel posto giusto cercare di fare tutte quante le cose in maniera precisissima Provando a scrivere, scrivi, questo è il dato di fatto principale non ho mai sentito parlare di uno che si è messo seduto nella scrivania e ha detto ora scrivo una storia e ha scritto una storia o anche ora scrivo un racconto e ha scritto un racconto manco la lista della spesa, io riesco a scrivere seduto dicendo adesso scrivo la lista della spesa è tutto un affastellarsi di materiale in precedenza che poi a un certo punto per pigrizia, perché non te lo ricordi più a mente, a memoria lo scrivi su un foglio di carta e da lì inizia qualsiasi cosa Lavorare, come dice la canzone, con lentezza, assolutamente quindi ci vuole molto tempo per me per mettere insieme una storia come dicevo prima perché parto da una quantità di appunti abbastanza chilometrica per poi riassumere tutto quanto nel materiale minore possibile poi non è detto che non sia anche quello chilometrico però assolutamente più asciutto rispetto agli appunti è un lavoro solitario quello dello scrittore perché quando stai in giro a vedere, a percepire la città a percepire le persone, a incontrare elementi del mondo esterno tutto quanto è grande socialità, questo è poco ma sicuro ma quando devi stare seduto qui, siccome, come dicevamo prima non abbiamo nemmeno tutto questo desiderio di metterci al bar a lavorare in mezzo alla gente bisogna per forza lavorare su una scrivania e io cerco sempre di avere, sembrava una cazzata ma di avere una scrivania più grande possibile proprio perché la quantità di materiale che esce fuori durante la produzione è infinita e mi piace sempre tenerlo sott'occhio perché non avendo una buonissima memoria devo avere un contatto visivo con tutto quello che faccio perché se no mi sfuggono parecchie elementi questi disegni sono tuoi, tu disegni per scrivere? sì, i disegni sono un po' una via di mezzo per entrare per me in contatto con la storia perché facciamo fumetti anche se non sono un disegnatore professionista in qualche maniera bisogna vederle le cose perché se no è difficilissimo uscirne questo foglio contiene, io quello che riesco a leggere una quantità industriale di materiale inerente a questo fumetto qui, Horus è una specie, non è un seguito di Anubi ma in realtà è un libro da leggere insieme ad Anubi Horus che è l'amicone di Anubi si muove insieme a lui per gran parte del fumetto però in certi momenti scompare quindi la mia domanda è stata potrebbe interessare al lettore sapere che fine fa Horus in quei momenti in cui non c'è all'interno del romanzo di Anubi della storia di Anubi? mi sono detto sì quando arriva il momento della consegna lo dai in consegna perché è scaduto il tempo ma poi in realtà per me il materiale è sempre vivo è sempre in costante crescita mi ritrovo per strada oppure mentre cucino oppure in bagno a pensare delle cose per Anubi come delle cose per Malloi come delle cose per i quattro vecchi di merda come delle cose per la nave dei folli per tutti quanti gli altri lavori che ho fatto ed è questo il bello che non si ferma mai l'universo e quindi riuscire a pubblicare più libri con la stessa ambientazione con le stesse personaggi non può che essere per me il massimo e soprattutto penso che sia anche la cosa più giusta nei confronti della storia che come ti ho detto non si ferma mai e quindi in qualche maniera bisogna secondarla perché se no ti ritrovi con una barca di materiale prima e una barca di materiale dopo vedete c'è un grandissimo caos che però appunto inizia a essere molto più organizzato di questo che mi permette scorro velocemente poi di arrivare a questa questa sembra un elenco di testo con dei capoversi in realtà questa è già per me la sceneggiatura cioè per me ogni rigo è una vignetta descrive tranquillamente tutto quello che succede all'interno della storia un certo organizzato disordine sì 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 assolutamente il disordine mi sembra essere un tuo quasi metodo è bellissimo è bellissimo il disordine ti permette di unire i punti in maniera incredibile che non ti aspetteresti mai e quindi il disordine è il tuo miglior collaboratore ovviamente la scrittura però è finale e questo è il bello è figlia del più perfetto ordine ed è questo l'elemento secondo me interessante ecco perché ci lavoro tantissimo perché parto da un come dire da un polo per arrivare all'altro quindi il viaggio è lunghissimo non è faticoso è anche molto divertente devo essere sincero ed è una professione un lavoro bellissimo però io vedo nella scrittura definitiva una forma di ordine che non appartiene che non appartiene alla vita reale quindi è un'occasione per me di entrare in contatto con una forma di ordine che è trascendente quindi la scrittura mi dà una soddisfazione finale proprio come un'estasi la lingua che uso per un racconto cerco di usarla allo stesso modo per il racconto a fumetti ovviamente racconti dà possibilità di scrittura diverse da quelle del fumetto anche semplicemente di quantità di parole anche semplicemente di quantità di materiale che puoi inserire in un racconto non ci sono paragoni dal punto di vista linguistico con un fumetto però il fumetto ha il grande vantaggio rispetto al racconto ad esempio di essere molto sintetico quindi devi da punti di vista della lingua sempre del testo quindi devi cogliere le cose giuste le parole giuste inserirle nel posto giusto cercare di fare tutte quante le cose in maniera precisissima molto spesso i fumettisti hanno una sorta di contatto diretto e non hanno nessuna vergogna a ricordarsi di essere stati bambini tu che rapporto hai con l'immaginario diciamo infantile quanto se pensi che questo possa condizionare il lavoro nel fumetto ti dirò di più ogni artista è a contatto con l'infanzia tutti gli artisti dagli scrittori ai fumettisti agli scultori ai pittori ai registi anche gli attori immagino tutti quanti sono in contatto diretto con la sfera dell'infanzia la sfera dell'infanzia insieme alle ossessioni è l'unica cosa che abbiamo da cui attingere l'ispirazione intima personale che poi è quella che incontra la realtà le tematiche tutte le tematiche dei lavori nascono tutte dall'infanzia l'infanzia è la cosa più preziosa che è un artista l'avvicinamento alla parte diciamo da docente da divulgatore quindi quello che mi ha fatto entrare dalle scuole materne fino alle università è stata abbastanza casuale perché mi ha chiamato una scuola di Anzio per fare un progetto che era un progetto della storia di Anzi a fumetti disegnata e raccontata dai bambini delle scuole elementari quindi il primo lavoro forse retribuito nell'ambito del fumetto ce l'ho avuto davanti a 200 bambini in una sala mensa con una lavagna nera col gesso e mi hanno detto parla di fumetto a questi a questi 200 bambini il fumetto è molto più vicino alle materie letterarie che a quelle di arte immagine e la dimostrazione sono tutti quei disegnatori che di fatto sanno disegnare poco e primo fra tutti Schultz per dire che con i Pinus lui lo ammetteva diceva io non so disegnare diversamente questo mio limite lo faccio diventare un'opportunità e racconto in maniera semplice disegnando in maniera semplice delle storie questo passaggio secondo me è molto importante e deve passare cioè il fatto che non bisogna far appassionare i bambini al disegno quando io entro nelle classi ma anche appunto nelle scuole più grandi nei licei non dico mai questo è un laboratorio di disegno questo è un laboratorio di fumetto che è cosa ben diversa perché poi c'è sempre il bambino che magari un po' insicuro dice ma io non so disegnare ma per fare fumetti non è indispensabile saper disegnare bene bisogna saper raccontare con quel linguaggio credi che sia cambiato nei decenni il modo di raccontare per ragazzi o i ragazzi sono sempre gli stessi e il fumetto si assomiglia beh no c'è stato un grande cambiamento anche nelle dinamiche del racconto perché appunto gli esempi che ti facevo prima da Topolino ai Ronfi erano e sono tutte narrazioni che vivono su riviste su contenitori periodici quindi c'era un'abitudine ad andare in edicola ad acquistare l'albo leggere queste storie brevi che magari veniano poi riprese nel numero successivo e adesso è cambiato anche il mercato dei fumetti per bambini perché si ricercano delle narrazioni che siano autoconclusive e che si possano sviluppare all'interno di un libro o di un libro di più pagine di solito sono libri molto corposi dalle 150 alle 250 pagine in cui i personaggi vivono avventure che però comunque rimangono autoconclusive quando scrive e disegna appunto pensando ai bambini di 5 anni che 5-6 anni che iniziano la prima elementare che stanno lì a vedere le lettere intanto scrivo un lettering enorme perché così almeno non hanno possibilità di sbagliare le righe e di leggere i personaggi sono molto semplici disegnati in maniera molto semplice e soprattutto sono riproducibili perché mi sono reso conto che effettivamente se un bambino si appassiona un personaggio lo vuole immediatamente fare suo e renderlo semplice nel disegno è una cosa che lo aiuta poi a raccontare storie su quel personaggio anche a fumetti e quindi entrare anche lì in un loop di narrazione a fumetti che continuano cerco sempre di coinvolgere più livelli di lettura perché i fumetti per bambini è vero che sono per bambini ma se sono dei fumetti pensati anche per una lettura adulta sicuramente resistono anche al passaggio del tempo per esempio e possono avere significati differenti per esempio in una storia di un bambino supereroe che si chiama Timothy Topp io ho inserito molti elementi di come il bambino vive il rapporto con i genitori e ci sono questi genitori che quando parlano nei balun hanno dei segni incomprensibili e urlano e si urlano contro e fanno dei gesti anche aggressivi e il bambino nella lettura di questi di questi segni si ritrova perché spesso e volentieri appunto i discorsi e le discussioni passano su un livello che è più gestuale e fisico che poi di contenuti delle parole il fumetto storicamente in Italia è sempre stato vissuto come una cosa per bambini o per adulti con la sindrome di Peter Pan e abbiamo avuto appunto un decennio abbastanza importante in cui si è provato e anche con ottimi risultati a far cambiare un po' a far bilanciare verso il fumetto per adulti e lo sdoganare questo fumetto che è soltanto una cosa per bambini ora invece si sta assistendo a una consapevolezza cioè il fumetto è anche per bambini ma soprattutto il fumetto per bambini è indispensabile per creare dei lettori che poi diventeranno lettori adulti di fumetto quindi quello che si sta facendo e quello che cerco di fare anch'io nel mio piccolo è quello di divulgare il più possibile l'idea del fumetto come mezzo di comunicazione e di espressione far conoscere il linguaggio per poter esprimere le proprie idee le proprie emozioni attraverso anche questo canale non è sostitutivo della narrativa non è sostitutivo dei libri illustrati non è sostitutivo del cinema o del teatro ma è un mezzo in più è come dare è come donare ai bambini ai ragazzi una freccia in più al loro arco per comunicare le proprie emozioni e le proprie idee e le proprie idee non è costitutivo per la